Le promesse si mantengono e quindi come avevo preannunciato all'apertura di questo nuovo canale di un'altra novità che era quella di una chiamata telegram fra tutti gli iscritti al canale e stasera avverrà, quindi per chi ne ha voglia alle 21 ci vediamo su telegram canale Valentina Fusco canale ufficiale e lo potete riconoscere da questo che è il segno, il saluto dei biker non c'entra niente con altro, meglio specificarlo perché ultimamente si può confondere gesti e simboli con altro che non mi appartiene. Quindi ci vediamo stasera e vi chiedo collaborazione sul lasciare chiusi i microfoni ed aprirli soltanto nel momento in cui chiedete di parlare e vi sarà data la possibilità di farlo altrimenti sarà un problema. Proviamoci, proviamoci. A stasera!